Delusione è zero, ma un pizzico di amarezza al massimo. Nulla di più, perché la mancata qualificazione ai play-off, traguardo sfumato per un solo punto, non può e non deve cancellare quanto di buono, anzi di ottimo, fatto dal Bicelli nel campionato di Serie C. La stagione dei Nero-Azzurri si è conclusa domenica scorsa con la vittoria esterna per 4-2 contro il Fondi, un successo, l'undicesimo di quest'annata, che però non è bastato per agganciare la decima posizione, l'ultima utile per accedere agli spareggi promozione. Poco male, in ogni caso, dicevamo. L'obiettivo della scorsa estate, vale a dire una salvezza tranquilla, era stato centrato con due giornate di anticipo. La matricola biscelliese, anche quando c'è stato l'esonero di Nunzio Zavettieri, non è mai stata realmente coinvolta nella lotta per evitare i play-out. Ha sempre potuto contare su di un buon margine di vantaggio sulla zona rischio della classifica e ha saputo gestirlo nei momenti di difficoltà. Negli ultimi 90 minuti della stagione regolare serviva non solo un successo a Fondi, ma anche la contemporanea sconfitta della Virtus Francavilla ad Andrea. Ed invece il derby giocato al Degli Ulivi è finito in parità, premiando in chiave play-off la squadra allenata da Gaetano D'Agostino. Questi ragazzi hanno fatto un ottimo campionato, una squadra giovane, migliorandosi domenica dopo domenica. Un po' di rammarico c'è perché per un solo punto non siamo nei play-off, quindi magari un po' di attenzione in più in qualche partita precedente e oggi saremo a parlare altro. Però stagione eccezionale da parte del Biceglie, di questi ragazzi e di tutti quanti. Ora le attenzioni sono concentrate tutte sul futuro del Biceglie, di voci se ne avvicendano tante nel calcio, in ogni caso contano solo le certezze, quelle che arriveranno inevitabilmente nei prossimi giorni e rappresenteranno il punto di partenza verso la nuova stagione dei Nerazzurri.